Interrogazione numero 12 del 24.1 del 2008 su informi propri da destinare ai sospicamenti delle domande di sostegno alle locazioni. Considerando che l'amministrazione comunale non ha mai potuto concorrere con proprie risorse alla reglazione degli interventi previsti del 181 del 1998, specie per quanto concedono l'alimentazione del fondo nazionale sul sostegno all'accesso delle abitazioni e l'inducazione, che la legge del 181 del 1998, articolo 7, richiamata anche per il regolamento di disegnazione dell'articolo 6 della legge regionale del 173, articolo 3, comi 1, 2, 3, 4, 6, 7, articolo 6 della legge regionale del 172, numero 6, base del 2003, articolo 6, 2, 3, 3, 3, 3 e disponibilità ai comuni interroggono il signor Sindaco che ha aggiunto per sapere se e quando l'amministrazione comunale ha finito di ottenere una più alta percentuale di contribuzione da parte dell'amministrazione della legge regionale del 172, intende, come già fanno diversi comuni dalla provincia del Pordenone, non solo, di segnare fondi poti nella percentuale di denze per vista della misura russa per il 10% del Pordenone locale per il soddisfacimento e l'ampliamento delle condizioni e aumentate domande di sostegno alle abitazioni. Pordenone del 14 gennaio del 191, affirma anche per l'inducazione del Giorgio di Troveano, a per ora alla... C'è rispondenza dei? Sì.